Il sindaco è qua, quindi risponde lui. Direttamente e quindi mi pare un tema interessante, noi fra l'altro ce ne siamo proprio occupati in questi giorni, quindi interessa moltissimo anche noi il sindaco. Sì, interessa la città ed è una delle questioni, è secondo me un buco nero. Io per rispondere alla domanda dell'ascoltatore, devo fare un attimo anche qua la storia, nel senso che nel 2002, cioè dieci anni fa, era stato approvato l'inserimento in un pacchetto di opere da realizzare in quello che si dice project financing, cioè il privato che realizza trova i finanziamenti per realizzare l'operazione, la riqualificazione del mercato di Corso Sardegna. Nel 2007 era stato approvato un primo progetto, nel 2009, quindi con questa dilatazione di tempi, era stata approvata la convenzione. Nel 2010, l'anno successivo era stato approvato il piano urbanistico operativo dal Consiglio Comunale nel 2010. Dopodiché il Consiglio Comunale e il Municipio hanno fatto ulteriori richieste di modifica finché nel 2012 febbraio è stato presentato il progetto modificato. Questo dà già un'idea di come dal 2007 approvazione del progetto di massima e poi all'approvazione della convenzione si arrivi a un progetto modificato presentato nel febbraio 2012 dopo diverse richieste di modifica. Che è accaduto? È accaduto che essendo l'area prevista nella zona del cosiddetto piano di bacino del Bisagno, noi, il Comune, appena avuto il progetto febbraio 2012 presentato, lo ha inviato all'autorità di bacino, quindi a un ente terzo, che non si è ancora espresso in maniera definitiva a oggi. Quindi noi stiamo sollecitando la risposta dell'autorità di bacino, perché l'area è ancora esondabile in caso di piena, speriamo di no. Ovviamente, e allora ci sono dei problemi per eventuali parti interrate dello stesso, quindi il nostro obiettivo adesso è sollecitare ulteriormente l'autorità di bacino. Voglio fare una considerazione, uno sui tempi dei progetti, io mi metto dalla parte in questo momento dei cittadini e anche degli imprenditori, che si vedono, e questo deve accadere in maniera ragionevole e in tempi certi, soggetti a continue richieste di modifica di progetti presentati. Secondo me, se arriva alla costruzione di un progetto, lo si discute prima, si recepiscono le istanze prima e si costruisce il progetto in modo tale da tenere conto di certe istanze. Non è poi possibile invece che una volta che sistematicamente un progetto è definito, di nuovo lo progetto di questo tipo, lo si rimette in discussione in maniera continuativa dal punto di vista delle varianti tecniche. Bisogna avere comunque una certezza di tempi, assumendosi delle responsabilità. C'è poi il problema della competenza di autorità diverse, in questo caso l'autorità di bacino. Non so se a volte sì, a volte no, però resta la questione che queste autorità diverse devono trovare il modo di operare in maniera molto coordinata e riducendo i tempi del processo decisionale. Sì, perché la cosa incredibile è come passando da un'autorità all'altra passino gli anni. Esatto, non deve accadere, questo è uno dei nostri obiettivi. Però quello dei tempi certi è un tema, lei ha toccato un tema scottante. Io l'ho toccato, noi ci stiamo dietro, faccio un esempio. Che riguarda un po' tante cose, no? Sui tempi noi siamo stati, cerchiamo di essere molto attenti al rispetto dei tempi per quanto riguarda una delle questioni che è stata sollevata in questa trasmissione, è il famoso trasferimento del deposito di container Derrick in zona Borzoli-Feggino. I tira-Borzoli. I tira-Borzoli, per cui abbiamo seguito proprio come amministrazione comunale il fatto che a Roma, all'Enac, che si occupa della gestione degli spazi aeroportuali, si arrivassero ad un accordo e stiamo veramente sul tema in modo che i tempi di tutti questi soggetti diversi siano rispettati in modo da dare risposte in tempi certi ai cittadini. Ultima lettera, tocchiamo un altro tema che è all'ordine del giorno, cioè IMU. Nadia Varrone, richiesta di riduzione dell'IMU per gli immobili che sorgono lungo Rio Fereggiano, almeno per l'abitazione principale. Ecco, in questo caso la legge... È prevista una riduzione, ci chiede. La legge determina in maniera assolutamente rigorosa i criteri con cui i comuni possono determinare le aliquote, non distinguendo tra singolo edificio e singolo edificio, se non sulla base delle categorie catastali degli edifici stessi. Se determinati edifici appartengono alla categoria catastale, noi siamo in grado di determinare l'aliquota IMU per tutti gli edifici di quella categoria catastale, da Nervi a Voltri a Bolzaneta a Ponte Decimo. Non possiamo distinguere se la categoria catastale è quella, gli edifici di quella categoria catastale ubicati in una strada o in una porzione di territorio, dagli edifici ubicati in un'altra porzione di territorio, se appartenenti alla stessa categoria catastale. Su però il Ferreggiano noi stiamo cercando davvero, e qua ci vuole anche davvero una mobilitazione generale, abbiamo inserito il Ferreggiano, gli interventi per il risanamento idraulico, lo scolmatore del Ferreggiano, nel pacchetto di opere di cui stiamo chiedendo il finanziamento all'interno delle opere Valvisagno al governo in questo cosiddetto piano per le città. Chiudo, si sente dire che stiano collaudando la metropolitana, quindi forse ci siamo forse, regalo di Natale. Ora, non parlo di regali perché secondo me è un'opera comunque dovuta, nel senso che l'amministrazione è molto attesa, è un'opera alla quale si sta lavorando da tempo e rispetto alla quale si stanno svolgendo in questi giorni tutta una serie di interventi di collaudo, di collaudo tecnico, che sono preliminari alla messa in funzione, all'apertura al pubblico di quella tratta. Ci arriviamo, questo è un impegno, io già ero stato qua in trasmissione chiamato a rispondere sull'avvio dell'esercizio della funicolare di Granarolo che poi aveva avuto dei problemi e poi è entrato in funzione, era stata l'inviata di una settimana, io non avevo partecipato all'inaugurazione, voglio dire una cosa, a me non interessa l'inaugurazione, la cerimonia, il taglio del nastro, interessa che le opere si facciano e questo è senza promesse, senza cerimonie, è l'obiettivo di questa ministra. Sindaco è soddisfatto delle primarie, dell'esito delle primarie? Sono soddisfatto dell'esito delle primarie per due motivi, del ballottaggio anche, perché per due domeniche consecutive più di 3 milioni di italiani la prima domenica e quasi 3 milioni la seconda domenica, cioè persone in carne e ossa hanno svolto un esercizio di democrazia, sono andate ai seggi gestiti da volontari e hanno indicato quello che per loro, per 3 milioni di persone, non poche, è il miglior candidato del centro-sinistra. Spetta ora Pierluigi Bersani caricarsi sulle spalle questa responsabilità, dimostrando che il centro-sinistra che ha scelto in modo democratico e trasparente, non con procedure comunque singolari, con 3 milioni di persone che hanno fatto la coda, hanno indicato con chiarezza la loro preferenza, con schede scrutinate, Pierluigi Bersani si carica di una responsabilità pesante, deve dimostrare che un centro-sinistra è capace di cambiare in meglio i governi di questo paese ed è capace anche di rinnovarsi, anche come volti, questa è una sfida che Bersani deve raccogliere. Quindi lei è d'accordissimo sulla scelta dei candidati attraverso un sistema di primarie? Non solo sono favorevole, sono favorevole a procedure più democratiche di scelta dei candidati, ma vorrei come cittadino del centro-sinistra, io sono andato a votare tutte e due le domeniche, che nella scelta delle candidature venissero fuori delle persone serie e anche delle facce nuove. Grazie Sindaco, buon lavoro a tutti e a voi grazie di averci seguito. Grazie a tutti.